Un'accetta in una mano, un'accetta nell'altra. Un uomo è stato fermato dai carabinieri e dalla polizia a Valle di Cadore mentre brandiva i due arnesi da taglio e li agitava contro le auto di passaggio lungo l'Alemagna, minacciando e insultando gli automobilisti tra la caserma della stradale e il vicino distributore di benzina. I passanti, vedendo questa persona particolarmente alterata, hanno chiamato le forze dell'ordine. I militari dell'arma, gli agenti della Polstrada sono giunti sul posto e, opportunamente protetti, hanno cercato di avvicinarsi all'uomo, residente in Cadore, per calmarlo e disarmarlo. Dopo alcune manovre l'azione è andata a buon fine. L'uomo è stato fermato e arrestato per porto illegale di arma, minaccia aggravata e resistenza pubblico ufficiale.